Trento e il Trentino si preparano a tre appuntamenti importanti. Il Giro d'Italia, che arriverà il 23 maggio sul Bondone, ripartirà il giorno dopo da Pergine e Valsugana. Il Festival dell'Economia, il Via il 25 maggio e i lavori per i cantieri del bypass ferroviario. Per questo al Palazzo del Governo si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Inevitabili alcuni disagi per i residenti delle zone interessate dalla Corsa Rosa, con la previsione della chiusura delle strade di passaggio dei corridori per due ore e mezzo martedì prossimo e per un'ora e mezza il giorno successivo. Tra stasera e domani in programma i superalluoghi lungo il percorso. Il Commissario del Governo, Filippo Santarelli. Ci saranno dei disagi e quindi insieme alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine e agli organizzatori cercheremo di adottare le misure che garantiscano uno splendido spettacolo alla presenza di tanti spettatori e cercando di far sì che la mobilità non subisca troppe difficoltà. Attenzione alta anche per il passaggio a Trento di 19 Ministri del Presidente del Consiglio nei quattro giorni del Festival dell'Economia. Il Comitato ha discusso pure della sicurezza attorno ai cantieri a nord e a sud di Trento per i lavori della circonvallazione ferroviaria. Verranno adottate con specifiche ordinanze del questore tutte le necessarie misure coinvolgendo le forze dell'ordine affinché le attività della cantierizzazione e delle operazioni tecniche possano svolgersi con tranquillità.